Una Roba da cinema Bellissimo Basta Basta Altrimenti dall'Italia arriva no No Ok? I confini di un paese sono sacri e inviolabili E le leggi italiane triunferanno contro la propaganda Del ministro Salvini e di questo governo Ogni volta il governo si è sempre premurato di fare attenzione Alla valutazione delle condizioni di salute delle persone che sono via state coinvolte E a norma di diritto internazionale questo significa Che la Sea Watch è una nave che deve essere sequestrata E che la nave deve essere affondata Come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale Ed è forse caldo a spiegare il contenuto di questo video Un video in cui Giorgia Meloni si scaglia con una violenza inaudita Contro persone inermi Contro chi organizza e pratica solidarietà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti